Come tutti i giovedì mattina abbiamo ospite in studio Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno, buongiorno Marco e complimenti a questo coro, a questo mosaico anche bello da vedere direi grazie alle immagini, a quel disegno sullo sfondo del Monte Vignole. Allora, come tutti i giovedì mattina noi commentiamo con il direttore proprio la prima pagina e alcune pagine interne del settimanale diocesano. Partiamo proprio con l'apertura Le Lebre di oggi, appunto avete titolato questa mattina chiaramente con un riferimento alla pandemia, al Covid che stiamo vivendo. C'è la giornata mondiale che è un appuntamento annuale, è questa domenica e come tema quest'anno si allarga appunto dalla malattia della lebra che sappiamo ormai è curabile con i farmaci, le terapie adatte alle altre malattie contagiose del nostro tempo, dall'ebola, la malaria eccetera e tra cui naturalmente anche il Covid. L'idea di fondo che ci hanno restituito tre operatori sanitari trentini che vivono nei paesi poveriti è questa per un mondo guarito, un mondo sano è necessario che ci sia anche una sanità all'altezza, una sanità minima ma una sanità di questo tipo nasce solo da rapporti di giustizia fra i popoli quindi la difesa dei più fragili come criterio per impostare un intervento sanitario. Con questa apertura mi sembra che siamo anche un po' in sintonia con quello che Papa Francesco ha scritto ai giornalisti sabato cioè l'idea di andare e vedere, di raccogliere le situazioni da chi le vive sul posto. Come trentini abbiamo la fortuna di avere missionari che sono lì sulla frontiera di queste lebre di oggi sono almeno nove direttamente impegnati con la lebra e i nostri lettori troveranno in queste due pagine le loro voci. Ecco, restando proprio a San Francesco di Sales che come sappiamo è il patrono proprio dei giornalisti anche il Vescovo Lauro domenica ha lanciato proprio un appello ai giornalisti ecco che cos'è che ha voluto sottolineare Don Lauro in quell'appello che anche noi per la verità abbiamo sintetizzato in un servizio televisivo? Sì, come gli capita di dire in altre occasioni, il nostro arcivesco è preoccupato da una narrazione scorretta che talvolta viene data anche dei fenomeni sociali, delle vere e proprie fake news o comunque una narrazione superficiale, stereotipata. Attenetevi ai dati di fatto, ecco questo è quello su quale ha voluto puntare l'arcivescovo gli elementi oggettivi, poi le interpretazioni vengono in un secondo momento ma questi dati di realtà e spesso la realtà è superiore alle idee, dice Papa Francesco dovrebbero guidare il compito di chi fa informazione. Non dimentichiamo che anche Don Lauro ha rivolto un appello di vicinanza ai colleghi del quotidiano Trentino peraltro anche voi quest'oggi all'interno di Vita Trentina vi occupate tornate ad occuparvi proprio dell'avvertenza che sta occupando i colleghi del Trentino tra l'altro questa mattina una commissione del Consiglio provinciale si occupa proprio di questa drammatica vicenda. Sì certo, mano a mano che passano i giorni ci si accorge della portata di questa decisione non solo per il suo metodo improvviso ma perché su tre testate la mancanza di una si avverte insomma il giornale è molto di più di un veicolo di informazione, di cronaca quotidiana è un presidio culturale, è un luogo di dibattito, di confronto e quindi è giusto a nostro avviso e noi appoggiamo qualsiasi tentativo per restituire una presenza quotidiana come è stata per 75 anni quella del Trentino. Voi poi vi occupate, tutti occupi in particolare di un'intervista a Luca Oliver che è stato confermato presidente delle ACLI e che sarà nostro ospite peraltro tra poco qui in studio ecco che cos'è che hai voluto sottolineare proprio con questa intervista? Ma sono rimasto colpito da due osservazioni quella di considerare le ACLI che sappiamo è una storica associazione cattolica anche come un'organizzazione civile quindi poter portare in evidenza quei valori di legalità, di partecipazione, di democrazia che poi dovrebbero rendere tutti i cittadini ACListi per così dire insomma ecco l'altro elemento è il fatto che anche l'associazionismo come quello ACLI sta risentito della pandemia però ha cercato di esercitare una sorta di vicinanza di pensiero come l'ha chiamata Oliver ecco è interessante quanto si muove nelle pieghe insomma di questo tessuto associativo che è fatto anche di quotidianità, di circoli, di incontri quindi siamo contenti di aver dedicato questa pagina ai tanti ACListi e ai tanti circoli che operano e che animano il tessuto del Trentino Tornando alla prima pagina di Vita Trentina vi occupate di libri con Maria Benigni questa storica proprietaria titolare di questa libreria del centro di Trento sì qualcuno penserà che abbiamo copiato dal Corriere del Trentino perché i colleghi del quotidiano proprio quattro giorni fa mi pare hanno pure messo il volto di questa signora 83 anni in copertina titolare della storica libreria di Via Belenzani e colpisce quando la si intervista e ringrazio Nicola Martinelli e Mariana Malpaga per questo bel ritratto la sua, mi verrebbe da dire, fedeltà ecco al valore della lettura e del libro in particolare ma voi, io lo posso dire, non avete copiato Maria Benigni diciamo che ciclicamente un po' tutte le testate se ne occupano però sono sempre interviste diverse esattamente anche perché lei è veramente un personaggio vi occupate poi di quello che chiaramente sta succedendo negli Stati Uniti con Biden primi passi verso Putin scrive Gianni Bonvicini sì, il nostro esperto che è già stato, lo ricordo direttore dell'Istituto Affari Internazionali analista molto attento ha studiato le sfide che hanno subito che Biden ha dovuto subito affrontare dopo l'insediamento e decisivo appare essere il suo rapporto con la Russia di Putin Biden sta cercando delle intese almeno sulle grandi questioni che poi sono quelle che preoccupano anche l'Europa e staremo a vedere come riuscirà insomma a mantenere un clima collaborativo con la Russia di Putin Nelle pagine interne affrontate o meglio aprite un dibattito su un tema che secondo me è estremamente interessante che è quello del Long Covid raccontaci un po' sì, questo è un termine inglese al quale abbiamo dovuto rincorrere perché è il più corretto dal punto di vista scientifico e definisce quei pazienti che anche dopo il tampone negativo cioè apparentemente guariti di fatto conservano una sintomatologia tipica del Covid anche per lunghi mesi e ci siamo accorti che questi sintomi che possono essere anche piuttosto pesanti che vanno dallo spossamento ma anche a fasi depressive o altre situazioni insomma un po' invalidanti in altre città sono curate orientate con dei presidi specifici non ci risulta che in Trentino si sia fatto qualcosa di così strutturato evidentemente se ne stanno occupando i medici di base ma è un lavoro che va a pesare già sul loro carico e anche il Presidente dei Medici Ioppi ai quali ci siamo rivolti conferma che sarà opportuno insomma pensare anche a questa realtà dei cosiddetti Long Covid Ricordate poi due grandi personaggi che ci hanno lasciato in questi ultimi giorni tornate ovviamente sulla morte del grande Cesare Maestri uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi e poi della morte mi pare causa Covid di padre Ezio Toller anche lui insomma veramente un personaggio Sì certo di Maestri riprendiamo il rapporto speciale che ebbe con Armando Aste altro grande alpinista Trentino, Roveretano Maurizio Gentilini nostro storico ripercorre questa amicizia Toller io lo ricordo quando fu rapito insieme ad un altro confratello Biagioli se non erro e ne scrivemo subito a Trentina rapito dai guariglieri della Renamo girarono nella foresta per quasi quattro mesi poi fu liberato un missionario di grande delicatezza e gentilezza e in pochi giorni il Covid se l'è portato via Porlate poi nelle ultime pagine del settimanale diocesano di agricoltura questa settimana e parlate di questo inverno che sicuramente è stato un inverno più rigido rispetto a quelli degli ultimi anni e voi fate addirittura un paragone un inverno come quello del 29 ovviamente c'è un punto di domanda qui Sì sono molto attenti i curatori della nostra pagina Giuseppe Michelone e Sergio Ferrari che qui saluto e ringrazio per il loro lungo servizio accogliere anche questi aspetti di tipo meteorologico e non lo fanno solo sulla base di sensazioni e impressioni questo è un pezzo come sempre documentato nei confronti nei dati storici da cui appunto poi ricavano alcune riflessioni utili peraltro non solo ai nostri agricoltori Che cosa mi sono dimenticato prima di salutarti o a che cosa non ho prestato attenzione questa mattina su Vita Trentina che era importante? Ma una cosa forse banale è la notizia che da domenica ufficialmente potremo tornare a ridarci il segno della pace che prima fosse proibito in molte chiese già lo si faceva però il consiglio permanente della CEI ha come dire sottolineato legittimato insomma questa possibilità di scambiarci un segno della pace con gli occhi oppure con un inchino quindi lo faremo abbiamo continuato a farlo in molti liberamente durante le nostre messe in questo momento così anche di rapporto personale in cui la pace che viene dall'altro viene per così dire condivisa fra quanti si trovano in chiesa eppur non conoscendosi magari almeno con gli occhi si danno un cenno di intesa e di aiuto reciproco questo è un segno ma è un segno molto importante noi ringraziamo ringraziamo molto Diego Andreatta direttore di Vita Trentina che come tutti i giovedì ci ha aiutato proprio a leggere insieme tutta la prima pagina e poi le pagine interne del settimanale diocesano di Vita Trentina